Musica Carissimi spettatori buongiorno, bentrovati alla primissima informazione della nostra emittente, il TG Mattina, oggi giovedì 25 maggio 2023, la Chiesa ricorda Santa Beda. Andiamo subito a vedere le primissime pagine dei quotidiani in uscita oggi, Novara VCO della stampa, il rilancio del Sacromonte di Orta, volano per il turismo religioso, domani un convegno sulla cura del patrimonio artistico e una conferenza con Vittorio Sgarbi. Si inaugura l'illuminazione delle prime cappelle, riapre anche il ristorante, è chiuso da anni. A Novara controlli in stazione, spaccio di droga, alcol in eccesso, quattro denunciati dai carabinieri e ieri pioggia sulle stelle. All'Isola Bella la sfilata di Louis Vuitton con Shakira, Messi ed Emma Stone, lo vedremo tra pochissimo. Sacromonte e Orta rilancia nuova illuminazione, sentieri, la riapertura del ristorante per valorizzare il sito che racconta la vita di San Francesco. Francesca Giordano, presidente dell'ente di gestione dei Sacrimonti, l'informazione è un elemento essenziale nella promozione del nostro patrimonio. Il sostegno anche di Rotary è comune, una sinergia che fa bene a tutti. Domani dunque convegno sulla conservazione, poi la conferenza di Vittorio Sgarbi, annullato invece il concerto di Antonella Ruggero previsto per sabato sera. Novara nelle rime rep, un gruppo di giovani racconta al laboratorio dello spazio nuova vita dei quartieri e sentimenti. A giugno ci saranno due concerti. La chemia, San Pietro Mosezzo, a due mesi dall'incendio, tenta di ripartire, c'è l'allacciamento del gas, manca ancora l'elettricità. A Novara, l'ordinanza del questore, un cliente armato di coltello e la pizzeria chiusa per dieci giorni è successo in corso della vittoria. Napoli a Novara, festa concerto per lo Scudetto, molto partecipata. Poi Siccità Est Sese illustra il nuovo regolarmento agli agricoltori novaresi, l'incontro alle 19 oggi al Castello. Nuovo supermercato sull'area dove sorgeva l'ex filatura Bossi, oggi apre fami la Cameri, ha portato 35 posti di lavoro. Ed è stata sistemata la voragine che martedì sera si era aperta in Viale Giulio Cesare, causata da una falla nella tubazione dell'acquedotto. Cooperativa di Vigevano fornirà il personale alla piscina di Trecate, atteso l'affidamento a Start Onlus. Il Tar ordina la bonifica dell'ex Bemberg e entro la fine di agosto l'amministratore giudiziario della società proprietaria aveva chiesto una proroga. Il giudice ha concesso tre mesi, sito considerato a grave rischio ambientale. La fabbrica era chiusa dal 2009. A Borgomanero il parroco scrive, basta di eiezioni sul sagrato della collegiata. Ci spostiamo nel VCO, Verbani ha dato l'ok a lavori per 18 milioni, c'è anche la Sassonia, sono le opere dell'ultimo anno del mandato di Silvia Marchionini. Forse sarà da ripetere la votazione sul presidente del Consiglio Comunale, fino a chiaro in carica dal 2021. Ed è scontro sul segretario che ora seguirà solo Verbani, è stata sciolta la convenzione con tre paesi della provincia di Vercelli. Le notizie che abbiamo visto in apertura, Isola Bella, VIP bagnati per la sfilata di Louis Vuitton, Folla sotto la pioggia e a stresa in attesa delle star, centinaia di invitati da tutto il mondo, Catherine Deneuve, l'attore Jaden Smith, poi ancora Ofra Winfrey e la top model russa Natalia Vodianova, e ancora Kate Blanchett e Jennifer Connelly. Il rifugio di Orfalecchio è dedicato alla guida alpina Fernando Danini, San Bernardino Verbano, sabato ci sarà la cerimonia a Rovegro. Il ricordo di Giacomo Cordoba è un aiuto a chi sta soffrendo a Ornavasso, la raccolta prosegue a soccorso in festa. Sanità subito al voto, l'idea dei due ospedali, la Lega ha detto no al Consiglio regionale aperto, recupero del San Biagio a Domodossola e del Castelli. A Pallanza, Omenia, Giunta Berio al lavoro, la squadra è molto affietata, sabato il giuramento, Lucia Camera sarà presidente del Consiglio. Andiamo a vedere l'appuntamento con la cultura, 30 anni da diva con freschezza, qui al Coccia per me è iniziato tutto, Paoletta Marocco, il soprano stasera nel recital con il tenore Francesco Congiu e Andrea Zanforlin al piano. Poi ancora Città in scena al Teatro Faraggiana, questa mattina alle 11 per il pubblico dei bambini. Alessandro Barbaglia a Momo per il pianeta dei clown dalle 21 di domani. Poi torna Gets al Museo a Oleggio, la big band più giovane d'Italia e il talento di Antonio Ciacca, al Via il Cartellone Estivo, con iniziative anche a Villa Calini e Sul Corso. Carta in Canta ad Arona, dedica la prima edizione alla magia della natura, all'ESA in piazzetta c'è Giancarlo Fantini. Tutto rock nella bassa e gastronomia di altro che feste, quindi c'è Cameriano e poi Ea Casalino. Le coincidenze dell'arte raccontano mondi astratti. Cannero Riviera da oggi in mostra alle opere di Giovanni Rodari e Daniela Albertini. Spiritual e aria ed opera col gruppo francese in vacanza a Baveno, stasera in chiesa, domani in hotel. Poi si parte a giugno, gli eventi per la terza età, l'alleanza Soms-Anteas è dedicata a Fondotoce. Per quanto riguarda lo sport, la Mami scivola a Piombino, non basta un superavvio, la sconfitta arriva in volata, dunque lo Leggio giocherà in B interregionale. Il verbanese Stefano Chiesa conquista l'argento agli europei a squadra in atletica leggera nella 35 chilometri di marcia in Repubblica Ceca e Canoa Giovani. La prima prova, gli equipaggi del VCO, protagonisti nel cannavese. Andiamo al Corriere di Novara. Bonus 110%, scoperta una mega truffa dalla Guardia di Finanza in Veneto, colpiti anche 12 novarese. La stazione di Agognate, domani ci sarà l'inaugurazione, è stata realizzata in nove mesi. Poi il raduno delle Panardel Levasor sarà nel fine settimana la prima auto costruita nel 1895, targata appunto Novara, quindi ci sarà questo 31esimo raduno internazionale dal 26 al 29 maggio. Sarà in scena quest'auto dalle 14.30 alle 18.30 in Piazza Martiri, domenica 28 maggio. In piazza per cantare Forza Napoli, per il concerto organizzato da Club Napoli-Novara-Partenopea, un grande successo con 300 persone in Piazza Puccini. Quindi diamo ai nazionali la stampa Colosimo, la mia verità sugli ex-NAR, non si placano le polemiche, l'intervista alla neopresidente dell'antimafia, quelle foto Ciavardini non è un amico. Romagna da ricostruire non bastano due miliardi, parla Bonaccini, il commissario in genere è un presidente di regione, si sta cercando appunto una figura super partes, poi il ministro musulmane ci aiuti fino a 900 euro a famiglia e torna però alla paura del maltempo. La foto di Tina Turner, addio alla leggenda, 200 milioni di dischi venduti, la regina del rock ci ha lasciati ieri, una stella che non cadrà mai. Andiamo al caso dell'aggressione ieri da parte di quattro vigili a una donna massacrata dai vigili e vergogna a Milano, un caso su cui si è espresso anche il sindaco, lo vedremo tra poco. Mi sono innamorato di una bicicletta, su questo verte la prima pagina del inserto salute della stampa, fa bene, diverte, appassiona, pedalare è il nuovo mast, in città, in montagna, tra le vigne e sui sentieri più antichi. Corriere della sera, addio a Tina Turner, leorenza del rock, era malata da tempo e morta a 83 anni nella sua casa in Svizzera. L'Europa sul PNRR fate presto, le raccomandazioni di Bruxelles sul deficit, catasto, balneari e sull'autonomia è un rischio per la spesa pubblica. Alluvione, allarme sanitario, mille frane, tensioni sul commissario. Bonaccini non può stare a Roma, deve essere nei luoghi della tragedia. Una vera e propria tragedia, abbiamo visto 15 i morti, ma adesso si aggiunge il problema dell'acqua che non riesce a defluire, quindi diventa stagnante e potenzialmente pericolosa per la salute. Molte le carcasse degli animali che si trovano nei campi a contatto proprio con l'acqua, quindi può arrivare nelle falde acquifere e può inquinare ovviamente tutto quello che incontra. Bisogna fare presto e riuscire a farla defluire, ma ancora c'è allarme, maltempo per i prossimi giorni. Andiamo sul caso di Milano, il video shock, bloccata e picchiata da quattro agenti, un fatto grave, commenta Sala, la scena è stata ripresa da un video amatoriale, bisogna fare chiarezza. Poi un agguato ieri a Napoli, spari al bar, ferita una bimba, mangiava il gelato, due fermati, uno è minore, è stata colpita alla testa, fortunatamente è fuori pericolo. Sono già stati fermati un 19enne e un minorenne. Poi il calcio, la Fiorentina battuta e rimonta con una doppietta dell'argentino, Lautara ancora re del gol, l'Inter vince la Coppa Italia. Andiamo all'inserto CUC del Corriere della Sera, dal 26 al 28 maggio alla Trinale di Milano, la tre giorni di cibo a regola d'arte che diventa un festival di esperienze. Gli economici, Italia oggi, l'alluvione sospende i debiti, moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti sacce, slittano il 20 novembre 2023 i pagamenti tributari dei prossimi quattro mesi e per la rottamazione c'è una proroga di tre mesi, sia per la presentazione dell'adesione sia per i pagamenti. Il sole 24 ore, Bruxelles sottotiro i ritardi del PNRR, le incognite della riforma fiscale, le raccomandazioni europee, presentare prima possibile le proposte di modifica del piano, poi il festival di Trento e Alvia, il futuro e le nuove sfide nella diciottesima edizione. Alluvione, oggi l'ok a nuove misure, al Consiglio dei Ministri torna il decreto legge esaminato martedì, gli aiuti estesi anche alle Marche e alla Toscana. Quest'oggi verranno sorvolate le zone colpite dall'alluvione da parte del presidente Meloni e von der Leyen che è in visita in Italia, proprio per capire l'entità dei danni ed eventuali stanziamenti anche dall'Europa. Per quanto riguarda le notizie della notte, ci sono state esplosioni a Kiev e in altre quattro regioni, dunque non accenna a fermarsi la guerra tra Russia ed Ucraina. Tra l'altro ieri ancora incursioni in territorio russo da parte degli ucraini, con droni che sono stati comunque abbattuti dalla contraerea. Andiamo a vedere il tempo che rimane abbastanza incerto per oggi e domani. Avremo cielo un poco nuvoloso, ma a tratti nuvoloso con possibili temporali e piogge, soprattutto nella seconda parte della giornata. Domani mattina tempo sereno, ma poi un ulteriore peggioramento nella giornata con l'arrivo delle piogge. Le temperature si attestano intorno ai 15 gradi come minima, 24 gradi la massima oggi, 28 gradi domani. È tutto, io vi aspetto domani a partire dalle 7 con le notizie del mattino. Arrivederci. Grazie a tutti.